I militari della stazione Carabinieri Forestale di Crotone, unitamente al personale della Polizia Municipale del Capoluogo, hanno accertato che erano in corso di costruzione opere ed elizi abusive. Nello specifico è stata accertata la realizzazione di sei unità abitative, di cui una in fase di realizzazione, aventi strutture in legno, in acciaio e in muratura, nonché di un massetto imbattuto di calcestruzzo della superficie di 170 metri quadri circa. Le opere sono state realizzate all'interno di un terreno di proprietà privata, con una superficie superiore a 300 metri quadri, a pochi metri dalla costa del mare Ionio, senza alcuna autorizzazione comunale e nulla osta ambientale, in zona assoggettata ai seguenti vincoli paesaggistico-ambientale, piano di stralcio di erosione costiera e piano di gestione rischio alluvioni. A conclusione delle attività, si procedeva al sequestro delle unità abitative e dell'intero terreno, entrambi convalidati dall'autorità giudiziaria. Sono state contestate violazioni in materia edilizia al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio nonché ulteriori disposizioni in materia penale.